Il prefetto di Catanzaro, Luis Alatella, ha firmato il decreto di estinzione della personalità giuridica della Fondazione Campanella, cui fa capo il polo oncologico del capoluogo di regione. Nei giorni scorsi il presidente della Fondazione, Paolo Falzè, e il direttore generale della stessa, Mario Martina, avevano sospeso ogni attività della struttura sanitaria a far data dal 2 marzo. Nel decreto prefettizio si evidenzia che il provvedimento è stato assunto dopo aver accertato la mancanza di un patrimonio adeguato, e dunque, scritto nell'atto, l'impossibilità di raggiungere lo scopo per il conseguimento del quale l'entera stato costituito. Il decreto del presente della TEL è stato trasmesso al presente del Tribunale di Catanzaro, quindi anche al presente della Fondazione, al presente della Regione e al Rettore dell'Università del Capoluogo. Nelle tre pagine che compongono l'atto si ripercorre il contenzioso nato intorno al polo oncologico di Catanzaro, evidenziando che risulta come la Regione Calabria non abbia pienamente adempiuto le obbligazioni assunte in sede di costituzione della Fondazione e tali inadempimenti ha determinato il sorgere di gravi difficoltà economiche nella gestione dell'ente. Rispetto alle varie riunioni e le ipotesi avanzate per salvare la Fondazione, nel decreto si aggiunge che nessun atto concreto è stato conseguentemente assunto fino alla mancata presenza dei soci fondatori nell'incontro promosso al Presidente della Campanella. Restano quindi senza occupazione 245 dipendenti traddetti alle prestazioni oncologiche e non, e restano senza assistenza numerosi pazienti oncologici. Grazie 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 Grazie